E' giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera, sarà la giornata della memoria e dell'impegno ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Noi quest'oggi vogliamo ricordare Lea Garofalo, testimone di giustizia, vittima innocente dell'andrangheta delle mafie e lo facciamo grazie al presidio, a lei intitolato, presidio Lea Garofalo di Libera Milano lo facciamo grazie alla presenza di Angela Tartaglia. Buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno, grazie. Faccio presente che sono solo un membro del presidio, in realtà il referente è Gabriele Ambrosio, però non era disponibile perché ovviamente è in corso l'organizzazione di questa giornata che è molto importante per me. Infatti l'ho presentata, non ho fatto nessun riferimento, ho detto del presidio Lea Garofalo di Libera Milano. Noi, grazie. Ecco Angela, allora tracciamo una breve biografia di Lea Garofalo. Sì, Lea Garofalo è una donna che è nata in un ambiente criminale, effettivamente la sua famiglia era una famiglia andranghetista e quindi lei si è trovata a doversi confrontare con questa realtà che non aveva scelto e dalla quale poi ha scelto invece di allontanarsi. Allora a Denis, chiedo scusa, Lea Garofalo quindi nasce a Petiglia Pellicastro, in provincia di Crotone, non conosce il papà perché il papà è morto, ucciso, cioè lei è piccolissima, quando il papà viene ucciso in una faida tra famiglie che appartengono all'andrangheta e quindi respira questa area di violenza fin da piccola, tanto che la nonna le diceva che il sangue si lava col sangue. Ovviamente ancora adolescente si innamora di questo Carlo Cosco, che è anche lui un esponente dell'andrangheta e rimane incinta e quindi avrà la figlia poi Denise Cosco. Mentre il fratello di Lea gestisce appunto gli affari dell'andrangheta lì in Calabria, diciamo che la famiglia Cosco, i Cosco, gestiscono soprattutto gli affari dell'andrangheta qui a Milano, in particolare in una zona di Milano che oggi viene definita appunto come la Chinatown, via Sarpi, loro hanno la loro roccaforte in via Montello 6, lo dico perché poi appunto lì ci sono i giardini Lea Garofalo che sono appunto un punto molto importante per la memoria appunto della sua figura. Questo presidio appunto dell'andrangheta a Milano verrà poi sgomberato soltanto nel 2012, quindi abbiamo una presenza appunto criminale dell'andrangheta a Milano per 40 anni in quella zona. E quindi Lea conosce questa realtà e questa realtà non le piace, diciamo che Lea sceglie per se stessa una vita diversa, una vita lontana appunto dalla criminalità, ma soprattutto la sceglie per sua figlia Denise. Lei quando Denise è ancora piccola, c'è questo episodio per cui Lea va a trovare appunto l'ex compagno in carcere, e appunto gli comunica che non vorrà più avere a che fare con lui, tanto che quella è la prima volta che Carlo Cosco minaccia di morto ovviamente Lea Garofalo. Poi lei decide appunto di testimoniare, diventerà collaboratrice di giustizia, ma in realtà lei non è una collaboratrice di giustizia, lei è una testimone di giustizia. Però allora non c'era ancora questa figura, perché poi appunto la legge sui testimoni di giustizia è stata fatta dopo. Quindi lei viene sottoposta appunto a un programma di protezione, costretta con Denise ancora piccola ad andare a cambiare varie città, ad esempio ad Udine, e comunque diciamo avrà molte difficoltà perché si trova come diciamo precaria in città che non conosce, sola con una bambina e quindi si sentirà sola e anche abbandonata dallo Stato perché poi in realtà le verrà tolta questa protezione, tanto che poi ricorrerà anche al TAR e al Consiglio di Stato per rieverla. Ma poi alla fine decide di uscire appunto da questo programma di protezione, decide di riprendere i contatti appunto con il padre della figlia, in modo tale da poter assicurare alla figlia diciamo un qualche futuro, anche se sempre ricordiamo lontano comunque da quelli che erano i traffici criminali del compagno. e infatti diciamo l'ex compagno le trova anche una casa a Campobasso dove avviene il primo tentativo effettivamente di omicidio di Lea da parte del compagno, in realtà sarà un tentativo fallito di sequestro, probabilmente qualcuno lo ricorda perché viene riportato anche nel film, gli viene inviato, siccome ha la lavatrice rotta, un fasso tecnico che cerca di sequestrarla, c'è la figlia Denise in casa e quindi questa persona che in realtà era stata mandata dall'ex compagno Carlo Cosco fugge senza portare a termine ovviamente quello che era il suo progetto criminoso. però appunto poi nel 2009 effettivamente Lea si incontra sempre con Denise, con il compagno qui a Milano, ripeto proprio per avere questo aiuto economico per far crescere la figlia, per crescere la figlia e succede che appunto il compagno la separa dalla figlia con uno stratagemma, la porta in via Prealpi e qui ovviamente la uccide e poi appunto il suo corpo viene incendiato praticamente con 50 litri di acido a San Fruttuoso qui a Monza insomma. Niente, in un primo momento ovviamente a Denise viene detto che la mamma l'ha abbandonata, ovviamente lei si ribella a questa ricostruzione conoscendo la mamma sapendo che non l'avrebbe mai abbandonata, quindi denuncia appunto la scomparsa, diciamo l'omicidio della madre e quindi vanno avanti queste indagini che poi porteranno ovviamente all'arresto e in seguito anche alla condanna di Carlo Cosco e ovviamente di tutti i sodali, però effettivamente sarà un iter molto lungo, molto travagliato e quindi soltanto nel 2013 ci saranno appunto i funerali civili di Lea Garofalo perché appunto in seguito a una confessione, a una testimonianza di uno degli appartenenti appunto di coloro che avevano partecipato all'occultamento del cadavere e come pure per stessa ammissione poi di Carlo Cosco, appunto si arriva alla verità e quindi vengono ritrovati i resti di Lea Garofalo che in realtà oggi sono al cimitero monumentale di Milano e quindi niente, praticamente si è arrivato in questo modo. Esatto, Lea Garofalo davvero rimane un simbolo importante. Quali sono le attività che il presidio Lea Garofalo di Libera Milano ha previsto per giovedì? Allora, nello specifico non ci sono attività previste per giovedì perché effettivamente giovedì, cioè il 21, ci sarà questa grande manifestazione a Roma e quindi sapete benissimo che quando c'è questa manifestazione ci sarà appunto questo corteo che terminerà appunto al Circo Massimo c'è la lettura di tutti i nomi delle vittime innocenti della mafia che sono più di mille e poi ci sono i vari seminari perché in occasione appunto della giornata della memoria e dell'impegno ci sono vari seminari tenuti appunto dagli appartenenti dei membri di Libera proprio per consentire di fare un po' il punto e anche informare le persone su quelle che sono le varie criticità diciamo da questo punto di vista del nostro territorio, dell'Italia e anche come affrontarle, quindi si parla ad esempio di reati ambientali oppure appunto di contrasto a quella che è l'economia della criminalità organizzata che sia l'andrangheta perché poi oggi sappiamo che queste criminalità stanno investendo tantissimo proprio in attività lecita e quindi stanno inquinando il tessuto economico del nostro paese soprattutto dopo la pandemia e questo sia a Milano che a Roma abbiamo appunto Bene Angela, allora noi invece come presidio Sì, prego, prego No, volevo dire che noi come presidio Lea Garofalo in realtà curiamo quelli che sono i luoghi della memoria innanzitutto che sono appunto i giardini intitolati a Lea Garofalo in via Montello 3 dove si svolgono appunto varie attività Lo stesso per quanto riguarda Piazza Prealpi è appunto diciamo una di quelle zone nelle quali si cerca di coinvolgere la cittadinanza proprio appunto per tenere viva la memoria di Lea Garofalo Ovviamente poi nella settimana successiva alla giornata della memoria avranno anche delle iniziative soprattutto con le scuole per ricordare anche qui ovviamente le vittime innocenti della mafia e quindi anche Lea Garofalo Ed è sicuramente questa una delle iniziative più importanti Noi Angela davvero la ringraziamo di cuore per averci raccontato Sono io che ringrazio voi Questa vicenda davvero tragica ma che speriamo possa essere anche una sorta di seme perché tutto questo non possa davvero accadere più Grazie, grazie di cuore per essere stata con noi Sicuramente, grazie a voi Bene, andiamo in pubblicità Paola Mentre ringraziamo ancora una volta Angela Tartaglia del presidio Lea Garofalo di Libera a Milano Andiamo in pubblicità e poi avremo un altro ospite Grazie a tutti Grazie a tutti